Questa è l'avventura di Solomon, una tartaruga di quasi 70 kg che, allontanatasi da casa, è ritornata fra le braccia della proprietaria dopo ben 80 giorni. Questa testugine africana, dopo essersi allontanata da casa, ad Ashland City nel Tennessee, ha vagato per giorni e giorni, lasciando in apprensione la proprietaria Lynn Cole. La donna vive con Solomon da più di 15 anni, un legame speciale in loro, tanto che nella speranza di ritrovarlo ha fatto davvero di tutto, dall'affiggere manifesti con tanto di foto a scrivere accorati annunci social. Solomon, però, sembrava essere letteralmente scomparso nel nulla e vano è stato anche il tentativo di contattare tutti gli zoo ed i rifugi vicini. Poi, quando le speranze sembravano ormai perdute, una chiamata ha fatto tornare il sorriso nel cuore di Lynn. Dall'altro capo del telefono, un uomo sosteneva di aver visto Solomon in un poco distante dall'abitazione della donna. Lynn, corsa sul posto, ha potuto così riabbracciare l'amato rettile, stanco, sporco ed affamato, sopravvissuto solo grazie all'erba e ai fiori trovati per strada. Come si è riuscito a scappare è ancora un mistero, ma di certo, vista la bella avventura, ci penserà due volte prima di allontanarsi di nuovo.